Situate nell'isola del nord della Nuova Zelanda, le montagne Kaimanawa ospitano un cavallo, introdotto dal reverendo Samuel Marsden nel 1814. Il Kaimanawa viveva lontano dagli uomini allo stato brado dove si è adattato perfettamente al suo ambiente. Fu solo nel 1876 che il Kaimanawa fu segnalato nel centro dell'isola. Avrebbe potuto continuare a vivere in pace, ma lo sviluppo dell'agricoltura ridurrà notevolmente il suo spazio vitale e causerà una forte diminuzione delle mandrie. Verranno messe in atto misure di protezione, tra cui un'area protetta dedicata a Kaimanawa intorno al campo militare di Weyuru, che ripristinerà l'allevamento del bestiame. Ma quando si diffonderà, si sceglierà la soluzione più radicale, la strage di massa. Per questo nel 1994 è stato creato un gruppo di lavoro, per decidere quali misure adottare per gestire le mandrie, senza ricorrere a soluzioni estreme. Il Kaimanawa è il discendente del Carlion Pony, creato da cavalli locali e dall'ex Moore Pony, introdotto dal comandante George Guavas Carlion tra il 1858 e il 1875. Poi il Pony Carlion sarà incrociato con il Welsh, portato da Sir Donald Maclean. È così che il cavallo Comet apparirà sull'isola e si riprodurrà con il Kamanawa. Alla mandria si mescolerà anche uno stallone arabo, dopo essere stato liberato da Nikolas Korinev nella zona della Val d'Argo. Infine, anche il puro sangue e i cavalli di cavalleria di Weyuru lo avrebbero influenzato negli anni 60. La morfologia del Kaimanawa mostra alcune somiglianze con il cavallino Comet. Le influenze esterne hanno creato una grande diversità di dimensioni, colore del mantello e caratteristiche del corpo. Sono cavalli molto muscolosi, il cui stile di vita selvaggio ha permesso loro di sviluppare una grande capacità di adattamento. Il colore del mantello è solitamente marrone, ma tutti sono possibili. I segni primitivi e bianchi e tutte le aggiunte sono accettati nello standard di razza. Ha un'altezza da 1,27 m a 1,62 m per un peso di 350 kg. Il Kaimanawa è un cavallo curioso e intelligente. Una volta addomesticato, rivela il suo buon carattere. È anche amichevole e leale. La sua vita nella natura gli ha permesso di diventare un cavallo robusto, solido, che si accontenta di poco cibo. Il Kaimanawa è adatto sia per adulti che per bambini, in quanto le sue dimensioni sono molto variabili. La sua versatilità gli permette di affrontare discipline molto variabili come il trasporto, i giochi equestri o l'equitazione sportiva, dove si dimostra eccellente. Il Kaimanawa è presente in Nuova Zelanda a sud-ovest dei monti Kaimanawa.